Noi fondamentalmente contestiamo il fatto che sono state individuate nuove figure professionali, un coordinatore di area territoriale, un coordinatore di area ospedaliera, due per ogni ALS, quindi otto, con un costo complessivo di 1 milione e 600 mila euro, che non sono previste da nessuna norma del contratto nazionale per la dirigenza medica, quindi un aggrave di spesa non giustificato, che si sovrappone a quelle che sono già le direzioni amministrative, sanitarie e generali di ogni azienda e alle quali si può accedere soltanto con un'anzianità di 7 anni e con un master di secondo livello. Molti parlano della Bocconi, noi li definiamo due super pippo, noi organizzazioni sindacali, in un contesto in cui vengono tagliati gli incarichi dirigenziali, tutti i medici decadranno dagli incarichi dirigenziali, anche quelli che hanno un contratto in essere, in un contesto in cui viene decurtato di un milione di euro la spesa per il personale, in un contesto in cui non vengono ancora recepite nel fatti le linee guida europee, le leggi europee per meglio dire, che dovrebbero obbligare tutte le regioni ad assumere nuovi medici per rispettare quello che è l'orario di lavoro e che vi assicuro non è assolutamente rispettato. Contestiamo anche la formazione di dipartimenti che non hanno motivo di essere nel momento in cui dovrebbero aggregare unità operative complesse che non esistono, quindi dovrebbero essere prima create le unità operative complesse e poi i dipartimenti con nuove spese. Insomma noi siamo contenti per dirla tutta di essere usciti dal commissariamento, purché questa uscita dal commissariamento non debba significare arbitrio e temiamo che è quello che sta succedendo nella regione Abruzzo. Un'ultima cosa me la dovete lasciare dire, io lavoro a Lanciano, sono nato a Chieti, ho lavorato tanti anni a Chieti, ma questo emendamento in Parlamento che è stato approvato e che esclude dal decreto Lorenzin nelle aree del cratere porta in pratica che solo all'alzi di Lanciano, Vasto, Chieti sarà applicato il decreto Lorenzin. Io questo ritengo che sia una profonda ingiustizia in un ospedale hub, soprattutto quello di Chieti, come ben sapete, è un ospedale che rischia di chiudere per grave deficienze strutturali. Noi stiamo lavorando assolutamente non in sicurezza e il mio timore è che una scossa di terremoto possa creare l'immaginabile. Se i politici invece di pensare al proprio tornaconto, al proprio orticello, capissero che è l'interesse di tutta la regione Abruzzo, secondo me dovrebbero essere più equilibrati e più obiettivi nelle loro decisioni.